Un saluto dal Tg della Mobilità, proseguono i lavori serali di rinnovo integrale dei binari della Metro A. Per lasciare spazio ai lavori, dalla domenica al giovedì l'ultima corsa dei treni alle ore 21, poi il servizio prosegue su bus. Il venerdì e il sabato i lavori serali sono sospesi e la Metro A resta attiva, come tutte le altre linee metro, sino all'1.30 di notte. Sempre a proposito di Metro A, da ricordare che per lavori di riqualificazione da oggi e sino al 3 ottobre chiude la stazione di Spagna, in alternativa si può utilizzare la fermata di Flaminio.